Emanuela, però, almeno per questa settimana basta parlare di onboarding, di personal brand, di agile, anche col tuo filo rosso, basta, io adesso mi piazzo lì, mi guardo Sanremo, la Ferragni, tutta la settimana, non voglio sapere nulla, basta contenuti così seri, mi voglio solo divertire. No, 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 non ci siamo Maurizio, si può assolutamente parlare di cose serie anche in maniera non troppo seriosa e io oggi ho invitato la persona giusta, si chiama Diego Parastone e lui fa Edu Temente, quindi è proprio la persona giusta, grazie di essere venuto, grazie. Buongiorno, buongiorno, cerco di essere umorista già a partire dalla mia capigliatura, mettiamola così, mi sono guardato in video, ho avuto un attimo di, come dire, commozione, mettiamola così. Bene, bene, ma facciamo così Diego, presentati tu, così non sbagliamo. Ah, ma no, va bene, è difficilissimo, ti dovrei raccontare troppe cose, diciamo così, faccio un po' il comico, un po' il formatore, tendenzialmente parlando di argomenti serissimi e cercando di renderli un po' meno pesanti. Diciamo che il mio obiettivo principale è non far dormire i miei interlocutori e fondamentalmente poi anche un piccolo trucco, perché se vado male come comico posso dire sono più bravo come formatore, se vado male come formatore dico sono più bravo come comico, se non mi conosce sotto tutti i punti di vista sono spacciato, però questo è un dettaglio. Per cui diciamo che cerco di mescolare, poi le attività sono molto diverse, l'intrattenimento ma portando dei contenuti quando faccio gli spicci in azienda, perché poi parlo di temi apparentemente serissimi come le neuroscienze, come la sostenibilità, eccetera, all'umorismo, ma proprio perché, pensa non so, tutto il tema della sostenibilità che spesso viene comunicato della serie, ricordati che devi morire. Le persone ovviamente si chiudono. Allora, lavoriamo su quello che le persone possono fare o aver voglia di fare. In aula però è diverso, nel senso che io in aula sono più un facilitatore, nel senso che sono le persone che agiscono, io do degli spunti, faccio delle osservazioni, però non faccio quella formazione dove vai lì e parli per otto ore, perché quella secondo me è più informazione che formazione. Le persone devono partire da un'esperienza. Poi si potrebbero aprire delle parentesi, no? Ma se vuoi su questo tema ho moltissimo da dire e rischio anche di essere polemico su un certo tipo di formazione. Però facciamo una cosa, dai, dico, apriamola una parentesi, no? Perché spesso, no? Anche noi che facciamo formazione abbiamo un obiettivo, no? Quello di non far addommentare la classe, perché valiamoci chiaro, no? Soprattutto la formazione dura un bel po' di ore e quindi effettivamente magari questa forma, no? Di edutainment potrebbe essere, no? Una strategia, no? Un'arma da poterci giocare. Ma tu cosa ci consigli di fare? Cioè, cosa dobbiamo fare per non far addommentare la nostra classe? Allora, tendenzialmente in classe si tratta di portare relativamente poca teoria, giusto l'essenziale, e far lavorare le persone. Perché lo testimoniano le ricerche di Adam Grant e di molti altri. Le persone imparano molto di più dall'esperienza. Sapere una cosa dal conoscere, una cosa dal punto di vista cognitivo, non vuol dire saperla fare. Sono due passaggi molto diversi. Allora, quando io vado in aula, le persone agiscono prevalentemente, fanno, e poi, se mai, si lavora per cercare di capire cosa si può migliorare, dove c'è stata una criticità e così via. Detto banalmente, le mie sono aule dove si scrive pochissimo, si agisce moltissimo. Quasi mai le persone sono sedute. E da questo punto di vista ti porti a casa molto di più, perché l'esperienza che hai fatto è una cosa che ti rimane. Allora, poi, certo, dipende da che cosa si intende per formazione, no? Se devi fare formazione sulla sicurezza sul lavoro, che è un tema che io non porto in aula, non è una mia competenza, devi certamente trattare normative e tutto il resto. Però poi, la domanda è come agganci quelle normative che, certo, le persone devono studiare alla loro memoria. E lì, da un certo punto di vista, anche la narrazione, l'aneddoto, l'alleggerire, può darti dei buoni risultati. Medina, che si occupa di neuroscienze, se ben ricordo lui è un biologo molecolare, ci dice che in media, in uno speech, i tempi dell'attenzione sono circa 50 minuti, 40-50 minuti, a seconda anche del tipo di persone che hai davanti. Ma se ogni 10 minuti fai un gancio emotivo, che può essere una battuta, una storiella, una narrazione, qualcosa che coinvolga gli interlocutori. Dopodiché, quella è più, se vuoi, informazione che non formazione vera e propria. Almeno, per quello che faccio io, che tendo ad andare di più nella direzione della formazione esperienziale. Bellissimo. Rendere interessante che questi temi non è male, davvero. Però a me ha colpito, allora, mi hai parlato di neuroscienze, fantastico. Poi, io ti seguo, quindi, mindfulness. E poi mi ha colpito il potere della risata. Come le metti insieme queste cose nell'edutainment? Allora, nell'edutainment, io ho un percorso, mettiamolo così, formativo, informativo, un po' particolare. Perché ho studiato medicina veterinaria, non ho mai fatto il veterinario. E come dice un mio amico, così ho salvato molti più animali. Dopodiché ho iniziato a fare teatro, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica. Per i casi strani della vita, alcune delle persone con cui ho anche lavorato a lungo come autore si occupavano di consulenza, formazione e altro. E quindi mi sono trovato anche nell'altro mondo. Nell'altro mondo, non in quello... Insomma, nell'altro mondo ci siamo capiti. Nel mondo più della consulenza e della formazione. Per cui poi mi sono trovato ad affrontare temi diversi, come il coaching e cose di questo tipo. Ho messo insieme tutta una serie di percorsi. Leggevo di neuroscienze, che era una mia passione dall'epoca di medicina veterinaria. Dico solo che Pancsep, il fondatore delle neuroscienze affettive, quindi uno di quelli che per primo ha studiato i circuiti cablati nel cervello, tipo il sistema della ricerca e altri, era un veterinario, quindi lo dico con un certo orgoglio. E quindi, insomma, ho mescolato insieme tutte queste cose. L'umorismo ti serve quando fai uno speech per tenere le persone attente e quando sei in aula anche per prendere una certa distanza dalla seriosità, dalla paura dell'errore, per sdrammatizzare. Quindi l'umorismo diventa una strategia per alleggerire e per sopportare quei momenti che magari per qualcuno potrebbero essere di difficoltà o di imbarazzo, dove se lavori con un tono troppo serioso rischi di fermare lì la persona. Se dai per scontato che si può sbagliare e ci si può ridere sopra, chiaramente la persona è più disposta a sperimentare e tra l'altro sperimentando impara delle cose nuove, se no tutti rischiano di chiudersi un po' a guscio. Per cui da questo punto di vista l'errore non solo è tollerato, ma è accettato e ricercato. Meglio sbagliare in aula che sbagliare fuori. E del resto non c'è nessuno nella vita che non abbia mai fatto errori. Come dico in uno speech sull'innovazione e la creatività, se ci pensi, il primo che ha scritto l'alfabeto, in realtà probabilmente fino a un attimo prima era un alfabeta. E quindi c'è un momento dove switchi, passi dal non saper fare una cosa al saperla fare e qualche volta passi dal non saper fare una cosa al continuare a non saperla fare ma in un altro modo. Noi dobbiamo fargli superare quel momento fondamentalmente. E sì, è bellissimo. E' questa concedere l'errore, anzi normalizzarlo, anzi vederne il valore, bellissimo. Anche perché poi c'è una paura che credo abbiano in tantissimi. Io ce l'ho. Quindi dici, vado, vado a fare una formazione, vado a fare uno speech, un qualcosa. Voglio anche essere spiritoso, eccetera. Ma la paura, la paura del parlare in pubblico, la paura del pubblico, la paura del giudizio, insomma, è la paura di sbagliare. Questa c'è, io la sento. Tu riesci a darci, non so se dirti qualche consiglio, perché poi è difficile caso per caso, però riesci a dirci qualcosa, aiutarci in qualche modo? Allora, ci sono veramente tanti modi diversi per vincere la paura del pubblico. Intanto il primo è essere preparati. Quando prepariamo un TED, cosa che in questo periodo stiamo ricominciando a fare con il TED legnano, noi creiamo un percorso per le persone che saliranno sul palco. Questo per due o tre motivi. Uno, perché imparano a gestire alcuni aspetti, alcune criticità, la gestualità, il movimento sul palco e tutti questi aspetti. In secondo luogo, perché nel prepararti sei più tranquillo, hai già metabolizzato tutto quello che racconterai dopo. Per dirla come Kahneman, hai automatizzato certi processi, li hai fatti passare dal system two al system one, cioè hai fatto sì che il tuo speech sia entrato a far parte di te. non ci devi più troppo pensare, non devi focalizzare la tua memoria sul doverti ricordare le cose perché hai fatto tuo quello che stai raccontando, che è già qualcosa che appartiene alla tua vita, ma lì l'hai agganciato alla tua memoria, ai tuoi gesti, al tuo spazio. E qua mi ricollego a una delle cose che dice Medina, c'è un tema quasi di sinestesia, mettere insieme gesti, suoni, movimenti, sinestesia in questo caso non lo stiamo usando nell'accezione proprio vera del termine, però sinestesia, diciamo così, in questo caso è mettere insieme i propri sensi, sapere che lì dovrai trasmettere quell'emozione, fare quel gesto, trasmettere quel concetto, avendolo già associato a tutta una serie di comportamenti che è automatizzato. Questo ti libera molto la mente e ti permette anche di, da una parte, mantenere più facilmente l'attenzione su quello che devi fare tu, ma anche su come sta andando lo speech, sul pubblico, percepire di più se il pubblico ride o non ride. Quindi se vuoi, c'è un tema di preparazione, c'è un tema di memorizzazione, di dare il tempo di assimilare a fondo quello che tu vuoi raccontare e poi ci sono tutte quelle tecniche che ti permettono di attenuare l'emozionalità o perlomeno di gestirla. Quindi tecniche un po' più legate al mondo mindfulness di focalizzazione dell'attenzione, perché se io sono focalizzato ad allenare la mia attenzione, non lascio che la mia mente parte in pensieri collaterali della serie come sto andando, ma forse non va come prelevo, mi ricorderò tutto. Se tu resti focalizzato su quello che devi fare, questi pensieri collaterali non hanno lo spazio per partire. Quindi si possono usare anche tipologie di tecniche di questo tipo. Molto spesso le persone salgono sul palco non troppo preparate, quindi già col dubbio mi ricorderò e questo vanifica spesso il risultato. C'è un ultimo elemento che se vuoi è il tema dell'abituazione, dell'abituare le persone a parlare davanti a un pubblico di dimensioni sempre maggiori. Nel senso che, per esempio, quando noi proviamo gli speech dai TED, banalmente ogni speaker prova il suo speech davanti ai coach che lo seguono a livello individuale, ma poi lo prova anche davanti agli altri speaker e la settimana prima, per esempio, prima di andare in scena, lo prova in una specie di prova aperta dove invitiamo speaker degli anni precedenti o altre persone proprio per allargare via via sempre di più il pubblico. Questo intanto ti consolida il fatto che sei preparato e che puoi nel frattempo sbagliare, migliorare magari alcune cose, per cui quando sali sul palco sei molto più tranquillo. L'ultimo tema è quello di avere in qualche modo sempre un piano B. Ne parlavo, e qua non vi posso dire no, è un personaggio molto, molto, molto famoso che avremo quest'anno ospite al TED di Legnano, è uno dei maghi comici più importanti d'Italia e proprio ieri l'ho incontrato per parlare della sua preparazione del suo TED. C'è questo tema dell'avere un piano B. Se un gioco non dovesse riuscire tu devi avere pronta un'alternativa che ti permette comunque di recuperare la situazione. Essendo lui un mago comico l'alternativa è quella gag che porta alla risata. Per cui gioca continuamente su queste due dimensioni. Anche sdrammatizzare nel caso dell'errore e sapere che è normale sbagliare e così via e che il pubblico o bene o male lo accetterà è una cosa che ti aiuta ad andare in scena. C'è un po' meno la paura dell'esame sì, sapendo che è una prestazione è una performance ma in ogni caso lo dico onestamente non ho mai visto nessuno perdere la vita sul palco perché il sospice è andato male. Bellissimo, bellissimo. Quindi guarderemo con un occhio diverso il palcoscenico più importante che quello di Sanremo così appunto vediamo se sono tutti tutti bravi. Grazie mille Diego. Grazie. Ciao, buona giornata, alla prossima. Ciao.